Per ricavare una formula per l'inversa di una matrice 2x2, ci serviremo del metodo dei complementi algebrici. Data una matrice A, quadrata di ordine 2, la sua inversa, che indichiamo con A elevato meno 1, è una matrice che si ottiene moltiplicando il reciproco del determinante di A per la trasposta della matrice dei complementi algebrici. Si vede chiaramente che, affinché una matrice ammetta inversa, il suo determinante deve essere diverso da 0, cioè la matrice non deve essere singolare. Infatti, se così non fosse, 1 fratto determinante di A sarebbe una frazione con denominatore uguale a 0, quindi una frazione non definita. Abbiamo parlato di complemento algebrico, conosciuto anche come cofattore. Questo è un determinante che si ottiene eliminando dalla matrice la riga I e la colonna J. Si mantiene invariato se il risultato di I più J è pari, e si cambia di segno se il risultato di I più J è dispari. Avendo a che fare con una matrice con due righe e due colonne, i complementi algebrici saranno uguali a determinanti con un solo elemento, e il loro valore numerico corrisponderà al valore di quel preciso elemento. Ricaviamo ora la formula per l'inversa di una matrice 2x2, della quale abbiamo denominato gli elementi A, B, C e D rispettivamente. Calcoliamo per prima cosa il determinante. È un procedimento molto semplice. Si tratta di moltiplicare tra loro gli elementi della diagonale principale, in blu, e sottrarre il prodotto degli elementi della diagonale secondaria, in rosso. Il determinante di A, allora, è AD meno BC. Ora calcoliamo i complementi algebrici degli elementi della matrice. Dovremmo eliminare la riga e la colonna di cui fa parte l'elemento in questione. Rimarrà soltanto uno dei quattro elementi, che corrisponderà al valore del determinante. Come detto prima, dovremo cambiarlo di segno se la somma degli indici è dispari. C1 1 è uguale a D. C1 2 è uguale a meno C. Dato che dobbiamo cambiare il segno, essendo 1 più 2, la somma degli indici, uguale a 3. Numero dispari. Stesso discorso per C2 1, che sarà uguale a meno B. C2 2 è uguale ad A. Questi elementi formano la matrice dei complementi algebrici degli elementi di A. Adesso possiamo scrivere la formula per l'inversa di una matrice 2 per 2, formula che useremo per risolvere gli esercizi nella parte pratica. L'inversa di A sarà uguale a 1 fratto il determinante per la trasposta della matrice dei complementi algebrici. Calcolare la trasposta di una matrice è molto semplice. Dovremo scambiare tra loro righe e colonne. La prima riga della matrice dei complementi algebrici è formata dagli elementi D e meno C. Questa diventerà la prima colonna della matrice della formula. Stesso discorso per la seconda riga, formata da meno B ed A, che diventerà la seconda colonna. Questa è la formula dell'inversa di una matrice 2 per 2. Ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Vediamo il primo esercizio. Ci viene chiesto di calcolare, se esiste, l'inversa di questa matrice. Per prima cosa dobbiamo calcolare il determinante di A e assicurarci che sia diverso da 0, condizione necessaria affinché A sia invertibile. Allora, calcoliamo il prodotto degli elementi della diagonale principale, 1 e 3, e sottraiamo il prodotto degli elementi della diagonale secondaria, 2 e 1. In pochi semplici calcoli otteniamo il valore 1, diverso da 0, e questo ci assicura che A è invertibile. Applichiamo la formula per calcolare l'inversa. Avremo 1 fratto il determinante che abbiamo appena calcolato per la matrice formata dagli elementi D, meno B, meno C e A rispettivamente. Per ricordare com'è fatta questa matrice, possiamo notare che, data la matrice di partenza, dobbiamo scambiare tra loro A e D e cambiare i segni di B e C. Per completare le operazioni dovremmo moltiplicare 1 fratto 1 per la matrice, ma, dato che 1 fratto 1 è uguale a 1, la matrice rimarrà invariata e sarà all'inversa di A. Verifichiamo questo risultato. Per farlo possiamo ricordare che il prodotto tra una matrice e la sua inversa è uguale alla matrice identità dello stesso ordine. La matrice identità è una matrice quadrata che ha tutti gli elementi della diagonale principale uguali a 1 e gli altri uguali a 0. Ricordiamo anche che il prodotto tra una matrice e la sua inversa gode della proprietà commutativa. Il prodotto tra matrici, in generale, non è invece commutativo. Svolgiamo il calcolo, moltiplicando le due matrici, A e la sua inversa, righe per colonne. Per approfondimenti sul prodotto righe per colonne, vi rimando al mio video sulla moltiplicazione di matrici. Trovate il link in descrizione. Il primo termine della matrice prodotto sarà il risultato del prodotto tra la prima riga di A e la prima colonna della sua inversa. Si sommano i prodotti delle componenti che occupano le stesse posizioni, quindi 1 per 3 più 2 per meno 1. Moltiplicando prima riga e prima colonna, otteniamo l'elemento in posizione 1,1 della matrice risultato. Il resto degli elementi si ottiene con calcoli analoghi. Il risultato che otteniamo è proprio la matrice identità di ordine 2, il che ci conferma che l'inversa calcolata è corretta. Nel secondo esercizio la matrice ha elementi frazionari. Per prima cosa calcoliamo il determinante. Ricordiamo ancora una volta il procedimento. Dovremo calcolare il prodotto degli elementi della diagonale principale, in blu, e sottrarre il prodotto degli elementi della diagonale secondaria, in rosso. Svolgendo i calcoli otteniamo meno 3 quarti più 3 quarti. Possiamo cancellare i due termini, opposti tra loro, ottenendo come risultato 0. Come abbiamo detto all'inizio, una matrice con determinante uguale a 0 si definisce singolare, e non ha inversa. Allora, questa matrice non è invertibile. Vediamo ora come sfruttare l'inversa di una matrice 2x2 per risolvere un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Iniziamo il discorso parlando della forma matriciale di un sistema. Dato un sistema di due equazioni in due incognite in forma normale, cioè con le incognite ordinate a primo membro e i termini costanti a secondo, possiamo scriverlo nella forma matriciale a per x uguale k. Chi sono a, x e k? a è la matrice 2x2 che ha come elementi i coefficienti delle incognite delle due equazioni. Nella prima riga ci sono i coefficienti di x e y della prima equazione, e nella seconda riga ci sono i coefficienti di x e y della seconda equazione. x è la matrice delle incognite, x e y, matrice che corrisponde a un vettore colonna, cioè una matrice con una sola colonna. k è il vettore colonna che ha come elementi i termini costanti delle due equazioni. Scritto il sistema in questa forma, possiamo risolverlo a condizione che la matrice A sia invertibile. Se questa condizione è verificata, le incognite si ricavano moltiplicando l'inversa della matrice dei coefficienti per il vettore colonna dei termini costanti. Dimostrare questa affermazione è semplice. Partiamo dalla forma matriciale del sistema e moltiplichiamo entrambi i membri per l'inversa di A. Attenzione perché è importante che l'ordine dei fattori sia quello che abbiamo scritto. Questo per garantire la compatibilità delle matrici per l'operazione di moltiplicazione. Infatti, possiamo eseguire A elevato meno 1 per k, ma non si può calcolare k per A elevato meno 1, dato che le due matrici non sono compatibili per la moltiplicazione in quest'ordine. Il numero di colonne di k, 1, è diverso dal numero di righe di A elevato meno 1, 2. Continuiamo i calcoli associando A e la sua inversa e poi sostituendo il loro prodotto con la matrice identità. Il prodotto tra i e x, per le proprietà della matrice identità, è uguale alla matrice x. Questo conclude la dimostrazione. Torniamo alla parte pratica e applichiamo i concetti di cui abbiamo appena parlato alla risoluzione di questo sistema, già scritto in forma normale. Scriviamo innanzitutto il sistema in forma matriciale A per x uguale k, con A la matrice dei coefficienti, x il vettore colonna delle incognite e k il vettore colonna dei termini noti. Verifichiamo se il sistema ammette soluzione. Calcoliamo il determinante della matrice dei coefficienti, con il solito procedimento. Prodotto degli elementi della diagonale principale, meno prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Il risultato è meno 36, diverso da 0. Allora A è invertibile e il sistema ammette un'unica soluzione. Calcoliamo l'inversa di A, applicando la formula e sostituendo i valori numerici. Dovremo moltiplicare meno un trentaseiesimo per ogni elemento della matrice. Dopo aver fatto le necessarie semplificazioni, otteniamo quella che è l'inversa di A. Adesso siamo pronti per ricavare le incognite, moltiplicando l'inversa di A per il vettore colonna dei termini noti. Come sempre, dobbiamo svolgere il prodotto righe per colonne. Ricordiamo ancora che ogni elemento della matrice risultato sarà dato dal prodotto di una riga della prima matrice per una colonna della seconda matrice. Per esempio, il primo elemento sarà dato dal prodotto di prima riga dell'inversa di A e prima e unica colonna del vettore dei termini noti. Dobbiamo sommare i prodotti dei primi elementi e dei secondi elementi delle righe e colonne corrispondenti. Dovremo sommare il prodotto di meno due noni e meno otto al prodotto di un nono e venti, ottenendo sedici noni più venti noni. Stesso discorso per il secondo elemento. Facciamo le necessarie semplificazioni. Completare i calcoli è semplice, dato che le frazioni hanno lo stesso denominatore. Semplificando otteniamo i due valori delle incognite. Allora, x uguale 4 e y uguale meno 5 è la coppia soluzione di questo sistema. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!